Buongiorno a tutti voi, benvenuti a Ok Giornali, la rassegna stampa in diretta, sono le 7.45, sfoglieremo i giornali in edizione locale, però guardiamo prima le previsioni del tempo e il santo del giorno che è San Fedele, oggi è giovedì 24 aprile, il sole è sorto alle 6.10 e tramonterà alle 20.02 e quindi vediamo le previsioni del tempo, come si svilupperà la giornata e i giorni a venire, per quello che riguarda oggi giovedì il cielo è parzialmente nuvoloso, però più consistente nei settori centro-meridionali, questa nuvolosità che andrà in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Le precipitazioni sono presenti, possibili e locali più vaschi o brevi rovesci, però sempre nei settori centro-settentrionali della regione. Vediamo le previsioni per domani venerdì, sereno e poco nuvoloso, quindi il tempo va verso un miglioramento, attività cumuliformi nel pomeriggio, precipitazioni durante il pomeriggio e sera, non si escludono brevi rovesci confinati ai monti Sibillini, quindi insomma questioni che riguardano le altevette. Sabato la situazione sarà questa, poco nuvoloso o molto nuvoloso, come vedete anche il colore delle nuvolette nella raffigurazione della protezione civile è esplicativo, i fenomeni potranno assumere anche carattere di velo rovescio e temporale, questo per quanto riguarda le precipitazioni. Vediamo le temperature, oggi a Pesorefano siamo sui 12-20 gradi, quindi temperature massime elevate, Urbino 12-18 gradi, vediamo quelle per venerdì 11-19, Urbino e Pesorefano 13-20, quindi più o meno lo schema è lo stesso. E allora affrontiamo i giornali, guardiamo, apriamo subito con il resto del Carlino, in primo piano la questione dei furti, i ladri sono sempre più scatenati, una delle zone più flagellate è Villa Fastigi, due irruzioni addirittura nella stessa casa, questo è avvenuto spesso anche qui a Fano, fanno visita per due o tre volte nello stesso appartamento, addirittura questa famiglia sono entrati nel gabbiottino e nella rimessa e si sono messi a mangiare, hanno rubato di tutto, quello che hanno trovato, l'hanno riversato nel giardino, sono andati nella famiglia accanto, sono entrati anche lì nell'appartamento e hanno fatto manbassa, hanno rubato biciclette, insomma quello che trovano. E siccome la zona di Villa Fastigi è così bersagliata dai malviventi, gli abitanti stanno correndo un po' ai ripari, intanto ieri hanno installato diversi impianti di antifurto ed allarme proprio nelle abitazioni di Villa Fastigi, si tenta di correre ai ripari, naturalmente per scoraggiare le incursioni dei ladri. Ancora dalla pagina di Pesaro del Carlino, la questione della scuola, il liceo linguistico diviso in due, sarà spacchettato tra Campus e Morselli, tenerli tutti quanti al liceo classico, dice, il preside non era possibile, quindi questo confronto scaturito tra il preside e i genitori. È una situazione temporanea e quindi speriamo che la situazione andrà verso un ricompattamento. presentata in centropagina la lista di Matteo Ricci, tante piccole e grandi sorprese, due dirigenti della provincia, qui vedete in questa foto di gruppo tutta la compagine della sua lista e ci sono anche i nomi, naturalmente, che potete leggere. Ancora dalla pagina di Pesaro, il neonato comune Vallefoglia, che quindi si appresta anche lui a eleggere il sindaco, vede le iniziative dei pretendenti alla carica di primo cittadino. In questo caso a parlare è Luca Lucarini, che dice esenzione IMU ai proprietari di appartamenti che offrono alloggio agli sfrattati. Quindi avanza queste proposte il candidato sindaco per il comune costi contenuti e si attingerà al fondo per la fusione, fondo messo a disposizione per la fusione appunto dei due comuni. Affrontiamo la pagina di Fano, del resto del Carlino, sapete che in queste ore il PM Guariniello sta rendendo note le motivazioni a chiusura delle indagini sulla questione Stamina, gravi le accuse a carico del suo presidente, della Stamina Foundation Vannoni e di altri 19 dirigenti, tra cui anche un dirigente, una carica dell'AIFA, associazione a delinquere, insomma accuse pesantissime e la questione riguarda anche il nostro territorio perché qui a Fano sapete Tiziana Massaro, la mamma del piccolo affetto dal morto di Crabbe, dice insomma con tono chiaramente ironico noi saremmo le vittime perché nessuno ci ha sentito, cioè ci ha interrogato, ha voluto vedere qual è la nostra versione dei fatti. Dall'entrata in vigore della legge sono morte 10 persone in lista d'attesa, questa è la nota polemica, però insomma lei dice che nessuno ci ha interrogato, Guariniello non ci ha contattato per sentire come stanno i nostri malati, i nostri figli oppure insomma coniugi che sono affetti da queste malattie. E a centro pagina poi anche un'altra vicenda legata a una forma di dislessia che affligge un bambino che frequenta il polo scolastico Nuti, è stato interrogato un po' a sorpresa quando insomma si potrebbero per questi bambini effetti da dislessia programmare le interrogazioni, il bambino è andato un po' così in difficoltà e adesso non vuole andare a scuola e quindi il padre che vedete nella foto è preoccupato e dice papà ma io sono handicappato, insomma così questo bambino dice io, il padre dice si inventa un po' tante scuse perché non vuole andare perché si sente un po' in difficoltà, non voglio tramutare in disturbo da dislessia in disturbo specifico scolastico per avere insomma il sostegno perché non voglio far sentire mio figlio un handicappato, però ora il problema c'è che questo bambino insomma si inventa un po' di tutto la tosse, la febbre, fa tanti capricci e il padre dice io non lo voglio forzare e non voglio neanche però marcare mio figlio con questa bolla dell'handicap. Allora a piedi di pagina i grillini invitano tutti i candidati a inviare il loro curriculum perché sdoganano due posti per la carica di assessore, nel qual caso loro andassero al governo della città, quindi da quattro vengono assegnati e due sono liberi, quindi insomma se volete mandare il curriculum fatelo ai 5 stelle. Fanno dei Cesari, un'altra proposta, la pagina della politica chiaramente dal Carlino insomma è ben rappresentata per promuovere il territorio, la cosa giusta con Secchi, uno dei suoi candidati in lista, dice portiamo la Fanno dei Cesari a Mosca, esportiamo questa eccellenza del nostro territorio, questo potrà portare effetti positivi sul turismo. Presentate anche la lista dell'Udc e quella della tua Fanno, qui nella pagina del Carlino troverete tutti i nomi, questa è la rappresentativa della tua Fanno, tra i candidati anche il sindaco uscente Aguzzi e il segretario Giacomo Mattioli, qui invece trovate la lista del vecchio dell'Udc che lo supporta in questa tornata elettorale. Ancora la vicenda dell'Aset, un altro nodo caldo di questi giorni di politica, la diatriba tra appunto il sindaco Aguzzi e Marino e ci si mette di mezzo anche Paolino, il candidato della Lega Nord che dice ma perché in dieci anni di governo non si è trovato tempo per provvedere, questa è la sua la sua insomma idea e quindi anche Paolini contro il sindaco e fa discutere appunto la decisione da parte dell'amministrazione di Aguzzi di ricorrere al tribunale per risolvere la questione, ma Marino dice io ho sempre agito nell'interesse di Fanno, dei comuni soci e della società. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, vediamo la pagina di Pesaro che cosa dice sulla sanità, la sanità bollente perché gli ospedali naturalmente pronti alla mobilitazione sono la CGL verso Mezzolani dice non abbiamo avuto ancora nessuna rassicurazione sull'organico di Marche Nord quindi noi siamo pronti alla mobilitazione, quindi la sanità della provincia è un nodo caldo. Ancora da Pesaro, l'incendio è avvenuto nella notte a Loreto, il fuoco lambisce addirittura anche il cinema, che cosa è accaduto? Degli extracomunitari che erano in questo capannone che doveva essere demolito avevano acceso dei fuochi per riscaldarsi, come sempre purtroppo avviene in questi casi, il fuoco ha iniziato a attaccare le strutture del capannone e quindi si è propagato e quindi è scoppiato l'incendio. Per questo è stata denunciata una donna, paura, tanta paura anche tra la gente. Fano, pagina del Corriere Adriatico, la politica chiaramente a parlare è Paolo Caporelli, il presidente del comitato organizzatore del centro-sinistra Farecittà, che dice l'aggiunta delle decennali incompiute. Farecittà ricorda i lavori incompleti, i progetti abortiti, ora da sindaco e assessori, sembrano tutti smemorati. E poi in fondo, anche qui il Corriere fa vedere la presentazione delle liste, sia di Carloni e del Vecchio, e anche qui ci sono tutti i nomi, se vi volete sbizzarire a vedere i loro componenti. E poi da San Giorgio di Pesaro, sempre le iniziative per contrastare un po' il dilagare della malvivenza e dei furti, che cosa si pensa? Sette telecamere in rete per la sicurezza. Questo per scoraggiare vandali e ladri, approvato il progetto, saranno pronte entro l'estate, e quindi proseguono i lavori per l'efficientamento energetico anche, e quindi l'incarico sarà affidato a una ditta privata. Andiamo a Senigallia, perché per quanto riguarda c'è la demolizione della ex Sacelti, la Ciminiera, ci sarà una demolizione frammentata, e quindi anche questa è una vicenda che attraverserà l'estate senegallese. E poi è morto Alberto Minerali, fondatore del Milan Club. In pagina anche la questione della sanità per quanto riguarda Pesaro e il messaggero, ma a Fiorenzuola è stata messa una catena da parte di un privato sulla stradina che accede alla spiaggia di Fiorenzuola, e ci sarà un blitz antisbarra, l'assessore Biancani, estremamente battagliero, che dice a giorni toglieremo quella catena messa appunto da un privato, perché la stradina di accesso alla spiaggia di Fiorenzuola è pubblica, e quindi non si possono mettere barriere. E intanto presenta i bus navetta estivi. Ancora dal messaggero, andiamo nella pagina di Pesaro, la questione dell'Es-Amga, Comune paga la bonifica, ma chiederà i danni, smaltimento dei fanghi, 16 richieste di rinvio a giudizio, ma nessun dipendente pubblico. E poi anche qui in centro pagina del messaggero, Pesaro, raffica di esordienti nella lista civica di Ricci, che sono rappresentanti di scuola, sport, cultura, commercio, liberi professionisti, voglio farmi aiutare da tutti voi. Questo è l'appello di Matteo Ricci. Ultima pagina per quanto riguarda il messaggero, quella di Fano, come di consueto. Ecco qui Marino, il presidente di ASEOT Holding, il sindaco si è rivolto al tribunale, ma il presidente Marino ribatte e continueremo ad andare avanti con il nostro lavoro. Qui taglio centrale è l'atto a Fano, rilancia il tema della sanità con Mattioli, e quindi la questione Holding dice non ci faremo commissariare il vertice Marino. appunto dice che entro il 6 maggio ci sarà l'assemblea e poi nella lista di Carloni Voltinoti, Pacifici e Del Moro che sostengono la sua lista. Ebbene, questa era l'ultima pagina del messaggero di Fano. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Questa sera, vi ricordo, ci sarà il Tg Occhio alla Notizia, poi a seguire Occhio al Voto con due candidati a sindaco, Massimo Seri e Mirko Carloni. Quindi una serata molto piena. Buona giornata a tutti voi, questo è tutto, la Sera Stampa torna domani mattina alle 7.45. Sera Stampa torna domani mattina alle 7.45.